Ciao a tutti ragazzi, sono Zwillix ed oggi sono qui con un nuovo video in cui mostrerò il nuovo veicolo super uscito a sorpresa oggi su GTA Online da parte della Rockstar e sto parlando della nuova X80 Proto. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo di lasciare un piace, ci vogliono solamente due secondi, mi aiutate veramente parecchio. Inoltre seguitemi sul canale Telegram, sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook. Infine iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto per altri contenuti e cominciamo subito. Questo veicolo, ovvero questa automobile veramente futuristica, veramente qualcosa di eccezionale, costa 2.700.000 dollari sul sito Legendary Motorsports e a quanto pare è un veicolo che è incluso nel DLC Furto e Finanza, insomma. E praticamente la Rockstar ha deciso di inserire questo veicolo qualche giorno più avanti rispetto all'uscita di questa espansione. Che dire riguardo questo veicolo? Sicuramente il prezzo di questo veicolo, nonostante sia a quanto pare il veicolo super del gioco, ovviamente per dire questa cosa mi sono informato su internet e non lo sto dicendo a caso, secondo me il prezzo di questo veicolo è veramente esagerato perché se vogliamo acquistare questo veicolo con le Shark Cards dovremmo spendere all'incirca 40 euro ed è una cosa veramente assurda per una semplice automobile virtuale di un gioco. Mi sembra veramente qualcosa di inconcepibile, insomma. Queste, insomma, sono le modifiche che ho effettuato su questo veicolo e come vedete ci sono veramente tanti look che possiamo applicare in questa specie di Ferrari. Infatti si dice che questo veicolo sia ispirato alla Ferrari F80 e alcuni dicono addirittura che questo veicolo sia una fusione tra la Batmobile e la Ferrari F80. In effetti non credo che loro abbiano tutti i torti anche perché l'aspetto di questo veicolo è veramente molto originale e molto diverso rispetto a tutte le auto e tutti i veicoli che abbiamo in questo gioco. Sembra un'auto, una specie di auto del 3000, insomma, il che lo rende veramente spettacolare. Nonostante tutto, ripeto, comunque il prezzo secondo me è veramente esagerato da far schifo e si vede che vogliono fare una megacormecerata per fare big money appalate. A parte le cazzate, ecco qui il veicolo, insomma, ecco la parte posteriore del veicolo con un motore a quanto pare molto futuristico, originale swag. Poi abbiamo l'estetica al suo interno che la fa sembrare molto Formula 1. E non oso immaginare quali veicoli, come la Rockstar farà gli altri veicoli super se è riuscita a fare un veicolo stile vettura Formula 1 perché veramente stiamo arrivando ad un'evoluzione dei veicoli super pazzesca se hanno creato una cosa simile, una mostruosità del genere. Riguardo invece gli altri veicoli, nelle prossime settimane dovrebbero uscire altri due veicoli sportivi che vi mostrerò in questo momento nel video. Stiamo parlando della 770 che costerà 695.000 dollari e stiamo parlando della P-Fister 811 che costerà 1.135.000 dollari sicuramente ve li mostrerò in un video a parte non appena usciranno. Se fate il login su Gite Online, non so se entro una certa data o per sempre sbloccherete anche una maglietta di nome Grotti ed è uscita anche una nuova modalità competizione che si chiama Power Play che anche questa vi mostrerò in un gameplay successivo magari insomma come li ho sempre fatti con la facecam e con qualche altro ospite speciale. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere tra i commenti che cosa ne pensate di questi veicoli e se è giusto che questo veicolo costi così tanto e detto questo, per farò se non piace, ci vogliono solamente due secondi di cliccare con il botone blu lasciate un bacio a pagina Facebook, seguitemi sul canale Telegram, sul profilo Instagram infine iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto per altri contenuti Da ZWX è tutto, ci sentiamo al prossimo video A presto! A presto!